Scienza e lavoro sul territorio. Se avete notato oggi come in questi ultimi giorni cominciano ad arrivare dei profumi, un calore, si ricominciano a vedere delle giornate belle, lunghe e di sole. Questo ci può ispirare? Ci può ispirare il mare della provincia di Roma, una delle perle della costa del litorale della regione Lazio, Santa Marinella. Abbiamo qui per parlare di Santa Marinella un consigliere comunale, Emanuele Minghella, nonché anche responsabile per bilancio e tante altre deleghe del comune di Santa Marinella. Sì, buonasera, buonasera Diego. Sono consigliere comunale con delle deleghe abbastanza importanti, perciò c'è questa anomalia in questo caso. Sono delegato alle finanze, perciò al bilancio, alle entrate. Ho la delega alle partecipate, noi abbiamo una partecipata e sappiamo quanto è stato importante in questo ultimo periodo il lavoro sulle partecipate. E poi, rispetto anche a quello che è la vostra trasmissione, scienza e lavoro, soprattutto sul lavoro, mi sono permesso di farmi dare dal sindaco due deleghe importanti in questo caso, che è la delega al castello, detta così sembrerebbe puramente culturale e turistica, in realtà dietro a questo c'è un progetto di costruzione turistica e perciò di possibilità di lavoro. E anche una delega, una delega un pochino più, come dire, di paese, della nostra città, che sono la delega ai Rioni, perché noi facciamo una manifestazione molto importante, oggi è la diciannovesima edizione, di una sfilata particolare, nata con i fiori, oggi è una sfilata vera e propria di cari allegorici nel periodo di luglio. Che giorno di luglio? Quest'anno è il 9. Il 9 di luglio, quindi c'è questa bellissima sfilata. La sfilata di Rioni. Poi io conosco anche quello che fate intorno a luglio-agosto, visto che frequento il litorale di Santa Marinella nel periodo estivo. I carri vengono da voi, non ricordo quale domenica è di luglio, ci sono i carri di carnevale, mi sembra. Sì, questa sfilata di carri allegorici, non di carnevale perché il periodo è fuori, ma nascono con i carri che venivano fatti grazie ai fiori, sai che è Santa Marinella è stata degli anni. Quindi è una manifestazione che conosco bene. L'ho vista due o tre volte, mi passa proprio di fronte a Capolinaro, alla zona di Capolinaro, quindi ho sempre lì con i bambini a vedermela, è veramente carinissima e poi è grande. Devo dire la verità che c'è una bellissima organizzazione dietro a questa... Se consideri che generalmente sfilano 5-6 Rioni e riusciamo a portare su strada 1.000-1.200 persone, comincia ad essere, su una cittadina di 20.000 persone, comincia ad essere un bel numero. Una bella manifestazione, assolutamente. E insieme a questa bella manifestazione il consigliere Minghella ci ha portato anche delle foto, delle foto che rappresentano... Punti importanti della città. Punti importanti, ecco, le descriva lei consigliere, adesso le vediamo. Questa è una foto molto bella del porto, del porto turistico, che è ai piedi del cassero De Scalchi. Sul porto stiamo facendo un lavoro molto importante, stiamo rivedendo una convenzione ormai annosa che porterà uno sviluppo, mi auguro, oltre che turistico e ricettivo, anche di opportunità lavorative. La bellezza, ecco, la foto lo dimostra con molta facilità. Ci sarà anche un'altra foto che fa vedere la sua grandezza. Questo è il castello, in realtà fa parte di un borgo vero e proprio. Questo castello è unico in Italia, in realtà è unico al mondo, che è sul mare. E su questo, grazie alla Regione Lazio, se ne avrò l'opportunità, dirò cosa stiamo facendo. Partirà una stagione molto importante. E verrà presentata brevissimo. Questa è la famosa passeggiata. Chiunque è venuto da noi ha fatto il bagno qui in passeggiata, è stato su questa spiaggia. E anche su questo la nostra amministrazione sta verificando la possibilità di poter fare un project, di poter dare opportunità lavorative, grazie a delle risorse del territorio. Ecco, questa è la foto del borgo che fa capire la sua grandezza, la sua maestrosità, la sua importanza. Ed è un peccato perché per tanti anni è rimasto chiuso. E questa è la foto del porticciolo che fa capire come è ben messa ai piedi del castello Odescalchi una struttura turistica per le barche di imbarcazione, non di grande taglio, ma molto molto carina, al centro del territorio. Questa è la biblioteca. È un'opera che abbiamo concluso nella nostra amministrazione. È una biblioteca, come dico, non è semplicemente un punto per poter trovare dei libri, ma bensì è una base di partenza per quello che può essere una crescita culturale del territorio. Beh, mi sembra che questa in realtà diventa un luogo di incontro, di crescita culturale, letterario. Ecco, non solo per Santa Marinella. Cioè, in realtà, Santa Marinella in questo momento si sta candidando, grazie alle prime mosse e azioni che avendo messo in campo come amministrazione, a diventare un punto di riferimento della provincia romana. Ecco, quindi Roma, in realtà, la sua dimensione città metropolitana la può trovare realizzata a Santa Marinella per alcune, diciamo, caratteristiche e attività. Corretto, Diego. In realtà questo è già avvenuto negli anni passati. Santa Marinella era la perra del Tirreno, lo è tuttora, perché i romani preferivano venire in vacanza a Santa Marinella per poter lasciare le proprie famiglie e poter continuare a lavorare. ed ha avuto questa crescita culturale, turistica, grazie alla Roma Bene, diciamo così. Venivano attori, venivano personaggi importanti. Tuttora Santa Severa è Santa Marinella, ne fa parte. Ci sono tantissimi personaggi, diciamo, della parte dirigenziale, della parte politica importante di Roma, che viene e vive noi dell'estate e permette, probabilmente, di fare una crescita culturale della nostra città. Qual è il vantaggio, diciamolo, qual è il vantaggio di Santa Marinella? Che in realtà è ben collegata con Roma, ben collegata con Civitavecchia, ben collegata con l'aeroporto di più vicino e di conseguenza, chiunque di voi, questa commissione è vista in tutta Europa, in Nord Africa, attraverso il canale Sky 828, chiunque di voi può arrivare in brevissimo tempo a Santa Marinella, perché arriva attraverso l'aeroporto di più vicino, arriva attraverso una linea ferroviaria alla città di Roma o arriva per via mare, marittimo, per un crociera, arriva a Civitavecchia, in realtà è arrivato anche a Santa Marinella e quindi può vivere un soggiorno breve, lungo, quello che sia, perché Santa Marinella offre, diciamo così, un'alternativa per parecchi mesi durante l'anno, quindi ha delle opportunità che comunque si susseguono durante il corso dell'anno. Mi permetto di dire che oltre ad avere un microclima che è fantastico, veramente otto mesi l'anno noi abbiamo il bel tempo, difficilmente arriva il freddo. C'è una particolarità che esiste solamente in due città, una è Santa Marinella e una è una città del Giappone, per una posizione geografica tra i monti della Tolfa alle spalle e il mare di fronte, che permette una corrispondenza dei venti e permette, sono bellissime queste immagini, e permette lo iodio di arrivare in un certo modo. Non a caso l'ospedale Bambin Gesù ha deciso di mettere una sede, noi abbiamo una sede dell'ospedale Bambin Gesù, proprio sul territorio di Santa Marinella. Perciò questo microclima particolare che è conosciuto ed era conosciuto ai tempi dei Romani. Signori, sembrano spiagge tropicali. Sono pure le nostre, sono le nostre. È Santa Marinella, siamo sicuri, sì. Beh, mi sembra che la prospettiva... Allora, diciamo così, la madre natura è stata generosa con gli abitanti e quindi con l'amministrazione di Santa Marinella perché vi ha dotato di risorse naturali, vi ha dotato di un'opportunità importante. Ecco, in più, oltre a questo, che cosa si può realizzare? Cioè, quali sono i vostri programmi di breve e di lungo periodo? Allora, noi abbiamo un territorio particolarissimo. La nostra città è fatta veramente sulla costa. Sono 30 chilometri di costa. Abbiamo poca collina, pochissima collina. Perciò è evidente che dobbiamo sviluppare le nostre attività su quello che è la potenzialità che ci dà. La localizzazione, che hai ben spiegato prima, è il mare. Non possiamo pensare di essere una città turistica stile Emilia-Romagna, stile costiera romagnola, perché non abbiamo queste spiagge enormi. Dobbiamo fare un turismo di nicchia, un turismo familiare. Perciò dobbiamo, diciamo, destinare le nostre risorse, le nostre capacità, semplicemente a far star bene le persone che vengono nel periodo estivo. Che cosa stiamo facendo? Noi a brevissimo, come ho accennato, se mi permettete, non arriverò in definizione a dire cosa verrà fatto, perché non è corretto. Perché l'accordo lo firmeremo a fine mese con il nostro sindaco e Zingaretti, perché la Regione Lazio è proprietaria del maniero di quel borgo che vi ho fatto vedere del castello. Abbiamo raggiunto un accordo di cooperare nella fruizione di quel borgo. e perciò a brevissimo verrà aperto. Questa sembra una cosa banale, ma in realtà non lo è stato. Solamente negli ultimi due anni è stato aperto nel periodo estivo, verrà aperto per 365 giorni l'anno. Il Comune, insieme alla Regione, veicoleranno insieme le risorse per farlo conoscere al mondo. Hai parlato dei croceristi? Perché non farli fermare in quel borgo fantastico? C'è la Torre Saracena, che è qualcosa di unico. Dalla Torre Saracena si riesce a vedere dalla Dispoli a Civecchia con una facilità pazzesca. Ci sono dei scorsi veramente belli, c'è una spianata bellissima in cui abbiamo voglia di fare eventi, di far, come dire, semplicemente anche rilassare le persone. Perché quest'oggi il turismo è vedere la cosa molto bella, ma è anche trovare punti di conforto, far assaggiare quello che sono i prodotti tipici locali. Perciò portare il turismo insieme a quello che è l'enogastronomico, che in realtà il nostro territorio, partendo da Cerveteri fino a Tarquigna, mi permette con molta, molta facilità. Beh, un po' di cultura locale sicuramente è diffondibile, anche rispetto a un turismo internazionale, proprio nel luogo del castello, che sicuramente si presta tanto folklore, cultura, tradizioni, abitudini. E poi non è arrivato il momento di portare il lusso su queste spiagge laziali. Perché io dico qualcosa, abbiamo visto delle foto pazzesche, no? Perché non ci possiamo permettere di, diciamo così, alternare sulle nostre spiagge un po' di lusso e un po' di, ecco, anche di turismo più semplice, tradizionale, familiare? Io dico che bisogna avere coraggio di fare delle scelte, perché non si può rimanere nel limbo. Noi, mi venga passata questa cosa, abbiamo vissuto un pochino di cosa sono state le bellezze di Santa Marinella nel passato. E questo ha portato pian piano un pochino anche a scemare. Oggi le condizioni economiche delle nostre attività commerciali, per dire, non sono bellissime. per tanti motivi. Il caro affitti, le difficoltà che c'è veramente nelle famiglie, nel poter spendere. Ora, ecco, questo è il momento in cui bisogna fare delle scelte per capire in quale segmento dobbiamo metterci e capire su che indirizzo dare la città. Noi abbiamo avviato un po' di procedure. Io mi sono permesso di fare, per dare ai giovani delle opportunità, ho creato un progetto, che poi dopo è diventato a livello nazionale, il progetto Amico Credito, se posso ne parlo di questa cosa. Nel 2011, sapete, è nato l'ente nazionale Amico Credito. Eletto io nel 2013, ne ho parlato con la mia maggioranza e con il sindaco, abbiamo fatto un accordo di massima con l'ente nazionale Amico Credito, dove il presidente Mario Baccini è stato subito propenso a darci questa opportunità. Senza sapere, in realtà l'ho nascosto un paio i miei colleghi, ma perché io faccio questo un po' nella vita e per me i finanziamenti sono una cosa abbastanza semplice, che in realtà lo Stato ancora non aveva determinato i decreti attuativi per poter poi erogare i finanziamenti col Amico Credito. Ho costruito quello che è la piattaforma, abbiamo fatto un accordo, l'ente nazionale Amico Credito, una banca locale, se la posso nominare, la Banca di Credito Cooperativo di Roma, che sarà subito disponibile a farlo, una cooperativa, con un fondo di 100.000 euro messi dal comune di Santa Marinella, ad effetto leva, possiamo finanziare fino a un milione di euro. il giovane che arriva con un progetto, un business plan che si legge naturalmente da un punto di vista finanziario, può essere finanziato per 25.000 euro, ecco qua il Amico Credito, per poter attivare la propria attività, il suo sogno, senza garanzia, non c'è bisogno delle papate, un altro lavoro, l'importante è essere, come dire, persone oneste. Ne abbiamo fatti 16, fra poco diventeranno 19, perciò 19 nuove attività sul territorio di Santa Maria, grazie a questo progetto, e ho cercato sempre di indirizzarli su quello che poi è un'attività turistica. Questa mattina mi ha chiamato una ragazza a cui sono molto affezionato, perché veramente ogni volta mi dice grazie, grazie, in realtà grazie a lei che ci ha creduto, e ha creato una piccola impresa che è il Food Truck, perciò ha comprato un apetto, si è messa su strada, ed è una di quelle attività che si sposa facilmente con le attività del territorio, turistiche, estive, invernali, anche comprensoriali, perché poi non bisogna guardare solamente al proprio naso. Noi abbiamo i Monti della Tolfa che sono bravissimi a fare delle sacre, queste tipologie di attività assolutamente si sposano bene e sono opportunità di lavoro. In quel caso, questo progetto Mico Credito ha dato la possibilità alla famiglia di sostentamento, che non è poco. No, mi sembra soprattutto che il Mico Credito sia un'attività molto importante, poi mi sembra che se uno sa organizzarsi, se la banca si sa organizzare, ci sono delle garanzie che possono essere recepite a livello europeo, con la FEI, e quindi si può garantire, oppure col Fondo di Garanzia Italiano, si possono garantire questa salvaguardia, perché a volte di norma si va in banca, c'è il problema che ti chiedono in garanzie reali tre volte quello che tu ne hai bisogno invece per un piccolo finanziamento. Quindi di conseguenza sappiamo che sono più attività di sciacallaggio finanziario che di reale aiuto. Invece mi sembra che l'attività messa in piedi da lei e quindi dal Comune di Santa Mera da questo punto di vista invece sia un'attività di vero supporto. Ecco, facciamo tornare un po' di ottimismo a questi giovani. I giovani soprattutto non si devono allontanare dalla provincia. C'è il problema che Roma nella sua bellezza, nella sua dimensione ha il difetto come tutte le grandi città metropolitane di attrarre verso di loro verso di sé tante persone che sono alla ricerca di un qualcosa quando forse in realtà quel qualcosa si può costruire sul territorio di Santa Marinella. Mi sembra che lei ha presentato benissimo dei progetti di sviluppo dei progetti di sviluppo del castello può garantire insieme a quello eventualmente di ampliamento del porticciolo o di miglior organizzazione può garantire una base occupazionale non di poco conto. Assolutamente io sono dell'idea che il castello il progetto ripeto non vado troppo nei particolari perché non è corretto e verrà presentato da persone che deve essere presentato però permetterà di poter utilizzare un qualcosa che è talmente bello e unico del mondo che però in realtà in questi anni è stato dimenticato perciò la bravura nostra sarà quella di rieducare la conoscenza del territorio di quel posto e da guide perciò da parte culturale pura fino ad arrivare come ho detto prima all'opportunità ricreativa chiamiamola così Ricettiva pure? Ricettiva assolutamente la regione ha idea di fare questo lo possiamo dire all'interno un bellissimo ristorante e un albergo un pochino meno bello ma sono convinto che chi verrà lo migliorerà però già la location da sola è talmente bella e permette di essere veramente unica al mondo Beh io non vi nascondo che poi in altri periodi dell'anno vado in Toscana e devo dire che ci sono alcune realtà dell'entroterra collinare toscano-sienese che ci campano con questi castelli recuperati sotto un profilo architettonico e poi trasformati al loro interno senza diciamo così andare a spogliare delle tradizioni ma hanno creato dei bed and breakfast degli alberghetti carinissimi perché dentro tu ritrovi quella mattonella fatta in quel modo il muro costruito in quel cioè ti sembra di alloggiare in un castello a tutti gli effetti questa è anche la nostra idea ma io dico sempre una frase che è banale non bisogna essere dei geni bisogna semplicemente girare guardare quello che è fatto bene in Italia e in Europa e riportarlo dove è possibile oggi abbiamo questa fortuna che questo borgo non è privato è bensì di proprietà della regione Lazio e utilizzato anche del comune perciò potremmo far utilizzare questi spazi anche a dei costi molto più bassi anticipo qualcosa metteremo delle zone per cui sposarsi all'interno che hanno un fascino fantastico e saranno rispetto ai costi comunali perciò dei costi non esosissimi ma che permetterà alle persone di sposarsi in posti belli senza spendere cifre importanti non spenderanno quanto Ramazzotti e Uzzinger al castello degli Orsini di Berciano però avranno lo stesso effetto ecco forse il mare io ho avuto la fortuna di salire su questa torre saracena e dico che chi sale lì rimarrà incantato è qualcosa di unico è qualcosa veramente di fa venire i brividi nel senso è quello no no è chiaro è chiaro sicuramente le emozioni ne crea ne crea tanti ecco il porticciolo turistico sì che cosa si vuole organizzare strutturale perché c'è stato un periodo bruttissimo durante il governo Monti che con le idee malsane di una di un'agenzia delle entrate vampiresca si era sparsa la voce sei una barchetta anche di 3-4 metri sei un evasore sei una persona che qualche reato l'ha commesso poi sembra che su questo si sia un po' tornato indietro si è fatto capire che si era fatta assolutamente una stupitaggia perché al di là dell'aspetto che l'Italia ha migliaia decine migliaia di chilometri di spiaggia quindi fare qualsiasi iniziativa che allontani l'uomo dal mare l'italiano dal mare distrugge la nostra economia seconda cosa siamo anche fabbricatori del bene cioè l'Italia ha una delle migliori cantieri navali rispetto a questo mi sa che però Santa Maniella manca il cantiere navale noi abbiamo un cantiere navale vero e proprio e di sostanza di sostanza quella potrebbe essere un'aspirazione potrebbe essere perché io mi immagino un bel progetto perché sono convinto che di ingegneri di ragazzi che si danno in ingegneria sicuramente a Santa Catena ce ne sono chissà se prima o poi non parte una bella cantieristica navale studiata equilibrata quella potrebbe essere una grande prospettiva la nostra amministrazione ha per la prima volta portato nel nostro territorio un piano di insediamento produttivo cioè noi abbiamo ideato i famosi PIP abbiamo localizzato la zona che sono precisamente all'uscita dell'autostrada Santa Maniera Santa Serra perciò comodissimi da un punto di vista di comunicazione purtroppo su gomma che poi è quella che va tanto che va tanto in Italia mi auguro di portarlo a termine oggi è in fase di autorizzazioni regionali questo potrebbe essere un'opportunità perché no artigianale perché poi non è a livello industriale anche nel cantiere nautico per quanto riguarda il porticciolo quello che non può avvenire avete anche una ferroviaria vicino a quella trostradale quindi in realtà si potrebbe provare a creare anche il doppio collegamento ferro gomma se c'è crescita senza ombra di dubbio però lì dipende sempre dalle risorse e dalle opportunità per quanto riguarda il porticciolo quello che oggi non ci possiamo permettere tutte le economie e soprattutto un'economia come la nostra che da un punto di vista veramente di crescita quella di Santa Maniera è oggi una fase ferma bisogna per forza rinvigorirla non può esserci una struttura come quella del porticciolo ferma così lo è stato per tante problematiche burocratiche comune perché quella è gestita oggi da una società privata che ha chiesto la possibilità di poterlo ampliare all'inizio c'erano dei requisiti e quello che hai detto prima tu la paura in realtà è rimasta per chi va ad investire nelle barche la paura è rimasta assolutamente se oggi una persona compra una barca lo fa per il piacere e per il gusto di farlo non perché si vuole fare lo yacht almeno nel nostro porticciolo e abbiamo ridimensionato senza dubbio le pretese da parte del comune spieghiamolo che barche costano quanto una macchina quindi cioè comprarci una barca è come comprarci una macchina facciamo capire che non è che assolutamente ma la barca non c'è una solitudine di andare anzi è una pratica da portare avanti se qualcuno ha l'opportunità e gli piace vivere il mare viva questa esperienza di possedere una piccola barca con il quale fare un po' di turismo perdonami beh la barca poi non solo intesa a motore io sono stato domenica passata sono stato invitato a presenziare un gruppo di ragazzi che hanno fatto una gara regionale con 120 imbarcazioni laser che è una cosa fantastica è bella sono tutti i ragazzi che vanno visti molto piccoli che dovessi dai 12 anni fino ai 20 anni perciò bisogna anche qui rialimentare una passione che purtroppo il territorio ha un pochino perso questi ragazzi credo di tanta maniera fossero due o tre su 120 questa cosa mi è dispiaciuta perché significa che anche da parte nostra non c'è stata un'opportunità di farla crescere ho parlato con il responsabile dell'associazione gli ho chiesto di farmi un progetto per portarlo all'interno delle scuole perché i ragazzi se non conoscono cos'è un laser che conoscono una barchetta a vela difficilmente ci andranno le vedono ma non sanno come si fa ad andarci e non sono degli sport costosi passo a vento ho chiesto cos'è l'imbarcazione o di iscriversi a un corso stiamo parlando come se giocare a calcio a basket o ad altro è un'alternativa è un'alternativa di attività sportiva a tutti gli effetti col beneficio del mare col beneficio dello iodio di Santa Mella che poi come si dice è uno dei migliori al mondo sotto al profilo degli aspetti della salute ecco della cura ci aveva detto che infatti c'è una struttura del Bambin Gesù che ha aperto proprio sì il Bambin Gesù ha una sede una delle sue sedi distaccate da noi e venne da noi proprio per questa posizione che abbiamo della città nei confronti del mare con alle spalle i Monti della Tolfa e il mare davanti che permette una circolarità dello iodio importante perciò in passato molti bambini asmatici venivano da noi solo per respirare da buon'aria mi sembra una buona motivazione per dedicare qualche settimana di permanenza a Santa Marinella allora avevamo detto della passeggiata sì bellissima è una spiaggia importante sopra c'è un bel anche lungomare diciamo così un marcipede lungomare dove visto che poi si sviluppa un po' anche di mercato di mercato artigianale sopra ecco che idee ci sono lì come ogni cosa tutto è migliorabile noi abbiamo una particolarità nella nostra costa che esistono delle abitazioni stile Liberty molto belle in questo caso fanno da contorno proprio a una passeggiata dove c'è molto passeggio vero e proprio nel periodo estivo e anche invernale e al di sotto c'è una spiaggia questa è una proprio una struttura costruita molti molti anni fa che ad oggi avrebbe necessità degli interventi strutturali la nostra idea era quella di fare un project perciò trovare risorse di privati che venissero investissero l'intervento strutturale di circa di un milione di euro e avesse l'opportunità rispetto a questo investimento di poter avere la spiaggia sottostante la spiaggia noi la diamo in concessione ormai da sempre e permette introiti al comune per quasi 200 mila euro l'anno perciò significa che c'è molta attività e poter magari migliorarla perciò rifacimento della struttura e perché no dare l'opportunità di poter avere anche dei altri servizi un bar un ristorante dei locali una discoteca qualunque cosa che possa essere ricettiva per i giovani del territorio perché comunque poi i nostri ragazzi purtroppo sono costretti a migrare nei territori vicini per poter vivere per poter vivere l'estate e questa è qualcosa che non può essere una città importante come la nostra perché è vero che oggi siamo quasi ai 20 mila abitanti ma il patrimonio immobiliare della città è per 40 mila abitanti significa che c'è struttura c'è la possibilità di poterla far crescere c'è bisogno di fargli fare la maturazione ecco quella maturazione territoriale che a questo punto fa vivere una dimensione di vita quotidiana la insegnità cioè i propri sogni i progetti si possono sviluppare a Santa Mella non c'è bisogno di allontanarsi di essere attratto per altre dinamiche da altri centri ma guarda la città ha avuto non è una città antichissima perché prima era legata a Cività Vecchia poi staccata con decreto successivamente alla guerra ma ha avuto dei percorsi economici particolari perché nasce come la città dei fiori come ho accennato noi veramente io vengo da una famiglia di fiori perciò conosco bene di cosa parliamo il garofano di Santa Marella è stato per anni superiore per il resto d'Europa noi esportavamo in Olanda i fiori gareggiavamo con Sanremo per i fiori questa comunque è venuta a mancare la voglia di investire in serre quando purtroppo l'Italia ha avuto la crescita edilizia la crescita dell'urbanizzazione facile e questo è stato un pochino secondo me alcuni errori urbanistici sono stati fatti sul territorio però è cresciuta tantissimo dal punto di vista perciò si è cambiato dalle attività economiche da quello che erano i fiorai a chi ha sviluppato le attività commerciali e le attività di costruzioni edili però questo significa che è una città che può cambiare molto cambia molto velocemente ecco questo è il momento in cui dobbiamo avere la forza e mi auguro anche le idee e il coraggio di fare dei cambiamenti che possono permettere di far diventare la città turistico-ricettiva e non intesa turistica che tutti mi dicono guarda Rimini noi non abbiamo le spiagge di Rimini noi abbiamo altre bellezze altre tipologie di sviluppo che può essere semplicemente di quella classe di quella classe di quella classe di quella classe no però le famiglie le famiglie che hanno voglia necessità di stare tranquilli nel periodo estivo mi sembra che l'opportunità da questo punto di vista non manchi allora altri progetti che avete messo in piedi parliamo adesso del lungo periodo a breve mi sembra che ci ha dato una gran anzi abbondante la presentazione di quello sul quale siete impegnati costantemente come amministrazione del Comune di Santa Marinella ecco facciamo andiamo un po' più lontano che altre cose vorreste fare allora sono dell'idea che non possiamo pensare che una città possa avere la propria economia solo su se stessa deve essere per forza o indotto o opportunità rispetto al comprensorio noi abbiamo la fortuna di avere una città importante come Civita Vecchia dove passano milioni e milioni di croceristi mi sembra che il dato sia intorno ai 4 milioni annui ho fatto già un appuntamento con il precedente Presidente Autoportuale e con l'attuale abbiamo un appuntamento a brevissimo per poter instaurare all'interno delle loro posizioni un punto di conoscenza della città di Santa Marinella perché proprio nel lungo periodo mi piacerebbe che la nostra città sia uno dei punti ricettivi di queste persone che vengono a visitare l'Italia che hanno il tempo forse di toccare Roma guardarla un secondo e tornare ma ci sono molte persone che già sono state a Roma che fanno la crociera e quando scendono non sanno cosa fare ecco dobbiamo cercare di costruire percorsi che permettono di far visitare le bellezze che abbiamo mi viene da pensare a una cosa banalissima far vedere in un viaggio che può durare 4 ore tutte le rovine che sono su Civitavecchia Tarquini e Cerveteri e Santa Marinella perché noi abbiamo il porto di Pirgi e Castronovum che sono dei luoghi veramente che fanno riconoscere cosa è stata la storia del nostro comprensorio perciò anche da un punto di vista di opportunità futura d'influenza poi etrusca romana che si è diciamo così sovrapposta è molto tangibile molto tangibile prima hai nominato Capolinaro di sotto c'è una peschiera romana che si vede in certi giorni in cui il mare è calmo sembra quasi ancora che si possa andare a utilizzarla perciò davanti al castello stesso c'è un porto che è bellissimo moltissimi appassionati di apnea ne utilizzano e ci vanno perciò diciamo che dobbiamo rifar capire nel lungo periodo che la nostra è una città particolarmente utilizzabile per il bello della parte storica mi permetto di accendere una cosa forse alcuni lo sanno ma lo sanno i specialisti noi abbiamo una spiaggia che si chiama Banzai Beach che si trova precisamente tra Santa Marinella e Santa Severa che è conosciuta nelle riviste californiane sul surf ma magari non la conosciamo noi ecco secondo me bisognerebbe investire anche su questo perciò metterci qualche risorsa per creare perché poi purtroppo a che punto è la Banzai Beach più vicino a Santa Severa o più vicino a Civitavecchia no proprio tra Santa Marinella e Santa Severa uscita dell'autostrada si viene verso Santa Marinella dopo due trecento metri c'è il Banzai Beach è conosciuta solamente da chi fa surf purtroppo e noi dobbiamo creare le strutture per far sì che questi surfisti che purtroppo nella maggior parte dei casi hanno lasciato come dire un po' di sporcizia fanno diciamo non lasciano risorse al territorio ecco dobbiamo noi creare infrastrutture per far sì che rimanga qualcosa al territorio ho capito diventa a questo punto a tutti gli effetti un'offerta di carattere turistico sportivo a tutti gli effetti va organizzato ecco vanno canalizzate le energie e le opportunità che si gerano intorno a comune di Santa Linella quindi diciamo da punto di vista ricettivo siete 20.000 abitanti ma avete diciamo capienza per 40.000 alberghi? ce ne sono secondo me potrebbero essere di più io qui ho un po' un sogno dico la verità che è quella di utilizzare alcune ville che ci sono ad oggi che purtroppo non sono vissute che sono chiuse per far un albergo diffuso questo è un pochino mio sogno da questo punto di vista secondo me la città si presta a questo e le strutture le case sono belle per poterlo fare anche qui perciò fare delle strutture ricettive di albergo diffuso anche di un certo livello perché queste vile liberty per chi li ha viste e che ha avuto la possibilità di poterle toccare con mano sono veramente molto belle sono uniche potremmo trovare qualcosa di simile solamente quando andiamo nella costera di cura ma null'altro sicuramente questa deve essere un'opportunità da generale ecco la regione Lazio abbiamo parlato di questa collaborazione finalmente che si è fatta che voi siete riusciti a strappare la regione Lazio rispetto al castello sarebbe stato poi secondo me un paradosso che l'amministrazione locale e i cittadini non potevano viversi una realtà e che se sulla carta è di proprietà della regione però a prescindere ritengo che sia alla fine un diritto dei cittadini di Santa Marinella poter partecipare collaborare e prenderne anche i benefici delle attività c'è sempre questa abitudine a volte di ecco far pesare la proprietà altrui sui territori ma è importante che questo faccia nascere sinergie ci sono altri rifinanziamenti che avete chiesto alla regione per altre iniziative che ancora siete in attesa di risposta allora devo dire che la parte finanziamenti sovraccomunali sono un po' inondente della nostra amministrazione purtroppo la politica spesso fa del bene e troppe volte fa del male sono delle idee che non si può più ragionare io sono di sinistra tu sei di destra centro sopra e sotto bisogna ragionare su delle idee per il bene del territorio detto questo non per fare polemica perché inizialmente per esempio la questione Castello è stata dura perché politicamente c'è una contrapposizione noi di centro-destra regione di centro-sinistra non si voleva parlare fortunatamente devo dire sia il nostro sindaco che il presidente della regione hanno avuto un'intelligenza nel capire che c'era necessità di far crescere questo per il bene del territorio si è trovata una sinergia per quanto riguarda i finanziamenti noi stiamo lavorando sempre su cose molto spot e molto piccole per poter indirizzare alcune attività in genere turistiche e di opportunità di sviluppo culturale però si potrebbe fare molto molto di più ho fatto da pochissimo un viaggio a Bruxelles e ho capito che ci sono tantissime risorse che possono essere destinate ai comuni e dobbiamo assolutamente per il prossimo futuro già in realtà anche grazie a un consigliere comunale che è con me oggi in maggioranza che è il primo che mi ha insegnato questo costruire oggi abbiamo un ufficio Europa all'interno del comune ed è visto in maniera molto marginale in realtà secondo me nel futuro c'è l'ufficio Europa e marginalmente il resto perché da lì arrivano risorse è il momento di chiedere come dice abbiamo l'abitudine di subire ogni tanto Europa e non abbiamo l'abitudine invece di coglierne anche quelli che sono i benefici o i diritti che ci mette a disposizione io posso solo che augurarle di realizzare tutti i suoi progetti soprattutto per il bene dei suoi concittadini di Santa Manella e la riaspetto qui quando avrà delle novità da presentarci anzi per presentarci obiettivi cerchiamo di venire anche all'inaugurazione del castello che sarebbe insomma una grande occasione per fare un dovrebbe essere il 21 un servizio un servizio allora grazie al consigliere di Santa Manella e grazie a tutti quanti voi grazie a voi finita la trasmissione e ci vediamo venerdì prossimo grazie a tutti 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 Grazie a tutti.